Gentili telespettatori, buona giornata. Il ritorno di Mario Draghi. L'Unione Europea lo vuole per guidare il Global Gateway. Ma che sarà mai? Beh, il nonno d'Italia smetterà di fare il nonno, perché tornerà forse in Europa. Ma io dico, ma chi glielo fa fare? Ma c'ha veramente voglia? Al posto di godersi la pensione, non so, fare i suoi hobby, c'ha voglia di prendere e andare ancora in Europa a lavorare? Boh. Intanto la presidente Ursula von der Leyen vorrebbe l'ex premier italiano alla guida della Global Gateway, il nuovo progetto europeo per le infrastrutture fisiche e digitali su scala globale, con una dotazione di 300 miliardi iniziali. Alla faccia. Alla faccia. Non è che ve ne avanza uno? Mezzo? Per competere con la Belt and Road Initiative, la nuova via della seta voluta dalla Cina. Lo scopo è di creare un network di infrastrutture e connessioni fondate sui valori europei, in concorrenza con Pechino, per ridurre la dipendenza europea dalla Cina, ma anche l'influenza cinese nel resto del mondo, soprattutto nei paesi meno sviluppati. La notizia arriva su un quotidiano tedesco, un quotidiano economico, viene pubblicata, che sottolinea come diversi stati europei vedrebbero in draghi il candidato ideale per guidare la nuova sfida europea, dopo aver salvato l'euro, quando era presidente della Banca Centrale Europea, e poi l'Italia dall'impasse politica che ha dato vita al suo governo dopo la caduta del Conte II, in piena emergenza pandemica. L'indiscrezione di un incarico europeo di draghi circola in realtà da qualche settimana. Ne hanno parlato in diversi giornali, inizio gernaio condividevano la necessità di nominare un leader competente per rilanciare il piano infrastrutturale, che vuole sviluppare connessioni con i paesi dell'Africa, dell'Asia e del Sud America. Questo piano per realizzare investimenti intelligenti in infrastrutture di qualità, rispettando le più rigorose norme sociali e ambientali, in linea con i valori e le norme dell'Unione Europea, con l'obiettivo di non solo di contribuire alla lotta ai cambiamenti climatici e al miglioramento dei sistemi sanitari, ma anche al rafforzamento della competitività e della sicurezza delle catene di approvvigionamento globale. A questo scopo la Unione Europea e gli Stati Europei tra il 2021 e il 2027 mobiliteranno fino a 300 miliardi in quattro settori chiave, clima ed energia, sanità, trasporto e tecnologie digitali e anche istruzione e ricerca. L'approccio sarà con una strategia che riunisce l'Unione Europea e gli Stati membri con le loro istituzioni finanziarie di sviluppo, compresa la Banca Europea per gli investimenti, il BEI, e la Banca Europea per la ricostruzione e lo sviluppo, il BERS, ma si punta anche a mobilitare il settore privato. L'ultimo investimento di questa Global Gateway risale al 27 gennaio, quando l'Unione Europea ha siglato una partnership con il Sudafrica per investire oltre 280 milioni di euro in sussidi, inclusi 87, quasi 88 milioni dal budget europeo per finanziare la ripresa verde e giusta lanciata dal Sudafrica. Chi lo sa, se Draghi avrà voglia di fare una roba del genere, forse si annoia a casa, non ha hobby, non vuole coltivare l'orto, non vuole costruire un tavolino di legno, non ha voglia di star lì a guardare la televisione, andare a fare la spesa, la passeggiatina in centro. Ci sono persone che preferiscono continuare a lavorare piuttosto che stare a casa, insomma. Poi se un lavoro ti piace, allora non lo consideri neanche un lavoro. Mentre quando stai sperando la pensione più di ogni altra cosa vuol dire che il lavoro ti risulta veramente, ma veramente pesante. Ecco, pertanto vedremo, vi terrò informati su questa eventuale novità e vi racconto che probabilmente, secondo alcune indiscrezioni, i ventenni oggi dovranno lavorare più di 46 anni per arrivare alla pensione. Eh sì, il sogno della pensione, ormai ci stanno dicendo che dovremmo lavorare probabilmente fino a 80 anni, come dire, continua a lavorare per sempre perché starai al lavoro finché sei vivo, praticamente, questo è. Perché i ventenni, secondo i calcoli dell'Inps, un ragazzo che si è appena laureato, poniamo 24 anni, e ha avuto la fortuna di mettersi subito nel mondo del lavoro dopo un anno di attività, numeri alla mano, potrà sperare di andare in pensione anticipata a 70 anni, ma deve aver accumulato senza interruzione contributi per almeno 46 anni e 4 mesi. Cioè, inizi a lavorare a 24 anni, da lì parti e senza fermarti, senza mai perdere un giorno, devi versare contributi per 46 anni e 4 mesi, quasi mezzo secolo, per poi arrivare a 70 anni che ti danno la pensione da fame, che non riesci neanche a comprare il latte al supermercato. Mentre la pensione di vecchiaia arriverà a 70 anni e 6 mesi, con oltre 20 anni di contributi. Ma il lavoro si è fatto sempre più precario, quindi avere 46 anni di contributi ininterrotti ormai è un'utopia. Per esempio, con la mia esperienza, io cambiavo continuamente azienda, passavo un anno e mezzo, un anno, due anni massimo e cambiavo azienda. Tra un cambio e l'altro si perde un mese, due mesi, a volte sono rimasto otto mesi cercando lavoro. Alla fine come fai? Non ho mai conosciuto nessuno, a meno che non sia il figlio di un imprenditore, che siano solo il negozio di scarpe, il figlio finisce la scuola a 18 anni, le superiori, entra a lavorare con il padre nel negozio di scarpe e da lì va avanti all'infinito, va avanti fino all'età pensionabile. Ma quanti hanno la fortuna che Papino tiene l'azienda e tu a 18 anni ti cominciano a pagare i contributi fino alla pensione? Sono pochi, sono assolutamente pochi. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata.